Io sono Vincenzo Francesco Perra, sono il referente per conto di Sardegna Ricerca e del progetto Sporto dell'Apalti Imprese. È un progetto che ha la funzione di facilitare i due lati del mercato degli appalti, le stazioni appaltanti e le imprese. Le stazioni appaltanti devono essere aggiornate sulle evoluzioni normative ma anche tecniche per acquistare al meglio e impegnare la spesa pubblica al meglio, in modo efficiente. Dall'altro lato le imprese Sarde, è un servizio focalizzato sulle imprese Sarde, devono avere le tecnicalità per poter partecipare e vincere le gare dell'appalto. È un progetto nel quale tutti questi attori, abbiamo detto stazioni appaltanti come le imprese, trovano le informazioni per capire quali sono le opportunità di sviluppo, le opportunità di partnership. Forniamo i servizi sicuramente di consulenza online con il nostro sito www.sportelloapaltimprese.it, ma creiamo appuntamenti di incontro, di formazione, in cui le stazioni appaltanti incontrano le imprese. Un'opportunità sicuramente per le imprese Sarde che possono così ampliare i loro mercati, conoscere quali sono le tecniche per poi uscire addirittura dalla Sardegna. Grazie per la visione!